via francigena tutti ne hanno sentito parlare ma ancora in pochi la conoscono e allora facciamo un ripasso si tratta di un itinerario storico medievale che i pellegrini percorrevano per andare dalla Francia e da qui il nome francigena a Roma il tragitto ufficiale segue il percorso compiuto da Sigerico arcivescovo di Canterbury nell'anno 990 di ritorno da Roma e documentato nei suoi diari una volta arrivati nella capitale però molti pellegrini proseguivano verso i porti della Puglia in particolare Brindisi e Santa Maria di Leuca da cui si imbarcavano per Gerusalemme oggi è diventato un percorso culturale supportato dal concilio d'Europa e gestito dall'associazione europea delle vie francigene. E cosa poteva fare l'associazione per festeggiare il suo ventesimo compleanno se non organizzare un mega evento internazionale il Road to Rome percorrendo tutti i 3200 chilometri della via francigena? E così il bordone del pellegrino è partito da Canterbury il 15 giugno per arrivare a Roma il 10 settembre e infine all'Euca il 18 ottobre. Tantissime persone si sono avvicendate durante gli oltre 4 mesi camminando per alcuni tratti dell'itinerario ma in 3 lo hanno percorso tutto dall'inizio alla fine. Una è l'instancabile mira il volto dell'evento e gli altri due sono i mitici Alessio e Massimo che conoscerete nel prossimo video. Per la promozione dell'evento l'associazione ha inoltre selezionato alcuni ambasciatori e tra questi incredibilmente ci sono io Pietro che sono volato dal Piemonte alla Puglia per accompagnare il gruppo proprio negli ultimi chilometri di questa avventura da Brindisi a Santa Maria di Leuca. Bene, credo che il modo migliore per concludere questo video sia attraverso le parole di Mira. E buon cammino a tutti! è stato molto lavoro e è stato molto difficile. È stato molto difficile. È stato molto difficile e probabilmente il lavoro più difficile che ho avuto, ma anche il più bello più bello che ho avuto perché camminare ogni giorno per l'Europa per fare il mio lavoro e essere able di comunicare all'inizio allo e mostrare la bellezza della Via Francigena è incredibile. È un honore, è stato un honore. e, sì, sono molto felice e orgogliosa di tutto ciò che abbiamo comunicato. E questo è quello che per me, per me, la Via Francigena Roto Rome ha significato per il mio cuore. Per il mio cuore, dovrei andare verso il mio cuore. Il mio cuore, per me, è praticamente tutte le persone che ho incontrato durante questi 4 mesi. Le persone che hanno venuto con noi per un giorno, per una settimana, alcuni per due settimana, le videomakers che hanno venuto con noi per due settimane ogni giorno, tutte le associazioni locali, le mayori, le persone di diverse regioni. Per me, questo è qui, nel mio cuore. Perché è probabilmente la parte più importante per me, per me, tutte queste nuove connexioni, sharingo questa esperienza con le persone di diversi paesi. perché, anche se abbiamo avuto 4 paesi, ho incontrato persone di diversi paesi. E questo, per me, è quello che significa la Via Francigena. È internazionale e tutti sono benvenuti. Quindi, per me, è l'esperienza qui. Per me, da qui, anche qui, anche qui, anche qui, è venuto a mio cuore. Questo non è solo la città, ma anche la cultura, la storia, e tutti i paesi che ho visto. Questo è qualcosa che è stato elaborato, e, ovviamente, anche la gastronomia. perché, in Francia, Champagne. C'è stato molto di più di diversi champagnes in solo una paura di giorni. Dessere hanno dato solo Champagne, mentre abbiamo avuto molti chilometri per la città. In Italia, avvisto, anche un po' di fantastica comida, ma la cultura e la carattina. In Nord-Francia, tutti i cemiteri dell'Irumpo della guerra mondiale hanno un'immense impressione. In Svizzera, tutti i cantieri, I love castles, it's been really amazing And then in Italy, I mean, everywhere you look There's heritage, there's history, there's culture It's so much and it's all along the Via Francigena So being able to communicate this to the people And invite them to come walk along the Via Francigena It's been amazing From my belly, I of course go down to my legs Legs is the physical part And the physical part has been challenging Pretty interesting, but I have to say I'm not tired at all Right now, physically, I'm all good I am ready to continue For me, the legs also mean all the different beautiful paisaggy landscapes that we've seen Because my legs managed to take me through all these different landscapes And I've seen flatlands, I've seen the sea, I've seen lakes I've seen mountains, I've seen hills Everything from Calais, because of course we weren't able to start from Canterbury Because of the pandemic All the way down to Santa Maria de Leuca Everything in between, my legs have been there My entire body has been there And it's been wonderful I am, yeah, I'll probably be quite sad Maybe in a couple of days when I really realize it's over But it's not really over Because I'm definitely ready for another challenge To the other side of that Thank you Thank you Thank you What is it? And here has nothing but water shall we ask me Who inga a cup of P&A A cup of H&E lei convintamente, prendile con la champagne